www.redigio.it e la storia continua Notizie storiche, i filibustieri Gli ascoltatori avranno certo provato una viva meraviglia e si saranno lasciati trasportare dall'immaginazione in quel mondo terribile e misterioso delle epopee romanzesche leggendo a un tratto nei telegrammi dei giornali politici un nome che stuola affatto tra le banalità delle avventure moderne in quest'epoca di positivismo bancario un nome che la leggenda ha consacrato il nome dei filibustieri quali uomini arditi dopo due secoli hanno tentato di far vivere in questo secolo così prosaico il gran nome che è ormai passato alla storia cinto d'una aureola di ammirazione o di orrore non lo si sa ancora di preciso tutto però fa credere che siano realmente dei rifugiati cubani da prima si seppe che una spedizione di filibustieri che non sono altro che esoli cubani cacciati dal suolo dalla loro patria del dominio spagnolo era stata organizzata a Kayworth nella Florida la Florida è lo stato più settentrionale dell'Unione Americana e che si era imbarcata sopra una goletta a vapore ben armata che due navi del governo di Washington erano partite per sballare della strada e che finalmente esse erano tornate senza aver nulla concluso quanto alla goletta anche essa era tornata ad onde era partita dopo aver deposte a Cuba un piccolo carico di avventurieri il pilota interrogato ha dichiarato di essere stato costretto con la pistola alla gola a cedere la sua nave che 25 uomini erano sbarcati verso e presso Gardenas e che prima che la goletta avesse perduto di vista le coste egli aveva veduto sollevarsi nell'isola la fiamma di vasti incendi ora quest'ultimo dispaccio annuncia annuncia che ai filibustieri si sono uniti 5.000 dei loro partigiani come si vede i nuovi filibustieri non perdono il loro tempo e si apprestano a seguire le orme sanguinose dei loro predecessori ed erano davvero uomini di polso quei filibustieri del secolo XVII senza essere degli eroi in tutto il senso della parola vale a dire uomini che combattono con sovromano coraggio per una causa giusta i filibustieri conosciuti pure sotto il nome di Fratelli della Costa non sono stati in realtà altro che una associazione di intrepidi pirati che vivevano esclusivamente di rapina e di saccheggio e che devastarono i mari del sud e dell'America meridionale per circa 50 anni i primi filibustieri risalgono all'epoca di Luigi XIII era l'epoca in cui i spagnoli e francesi si detestavano cordialmente in cui la Spagna copriva i mari con i suoi galeoni e in cui la Francia possedeva quasi nulla in America erano per la maggior parte avventurieri francesi che esercitavano ma pressapoco il mestiere di corsari uno di questi chiamato Le Grand nativo di Dieppe si associò a una cinquantina di uomini risoluti e andò a tentare fortuna con una barca che non aveva nemmeno cannoni verso l'isola di San Domingo scorse un galeone che si era staccato dalla flotta spagnola si avvicinò adesso senza che lo spagnolo pieno di fiducia si degnasse di cannoneggiare quel meschino guscio di noce si arrampicò con i suoi superi cordami giunse al ponte massacrò senza pietà l'equipaggio sorpreso e tornò a Dieppe con il suo galeone carico d'immenso bottino questa avventura fu il segnale di quarant'anni di imprese inaudite e di un carattere affatto selvaggio la banda di Le Grand formò il centro tutti i banditi di Europa si collegarono ad essa vi erano fra loro disertori di tutte le armi tagli a cantoni in tutti i paesi e fra essi non pochi nobili figli di famiglia rovinati dal gioco e dalle donne gentiluomini ladri e peggio ancora salvati dalla ruota o dal capestro dalla potente protezione dei loro parenti ma la maggior parte usciti non si sapeva di dove comunque tutti briganti di vocazione questi uomini sorpresero saccheggiarono e distrussero da cima a fondo le ricchezze della città di Chagra Mecaizabo Veracruz Panama Porto Rico Porto Rico Campeque Santa Caterina e via dicendo mai disse Voltaire i romani e gli altri popoli briganti fecero ciò che non essi fecero in una spedizione diretta da Lorenzo di Groff uno dei loro capi più abili e Ravenò dell'Ursan contro le coste del Perù e quelle del Messico i filibustieri assaliti da forze superiori dovette la battere in ritirata circondati da Nemico lo fecero oltre 300 leghe di giri e rigiri e sebbene distanti 80 leghe soltanto dal mare delle Antille per imbarcarsi Voltaire parla di questa ritirata come la più meravigliosa operazione militare dei tempi moderni tali furono questi uomini come soldati i loro costumi la loro crudeltà superava tutto ciò che si può immaginare si parla di un olandese chiamato Roche che mise parecchi spagnoli allo spiedo e ne fece mangiare i suoi compagni quando sorprendevano la città ed entravano nella casa di un padre di famiglia lo mettevano alla tortura per scoprire i suoi tesori il che ha fatto dire all'autore del dizionario filosofico che la questione fu certamente inventata dai ladri di strada a dispetto della loro ferocia e anzi appunto per essa erano attaccatissime alle pratiche religiose essi non mancavano mai prima del combattimento di pregare ardentemente perché Dio accordasse loro la vittoria essi pregavano del pari prima di prendere il loro pasto e doveva essere proprio un curioso spettacolo quello di cotesta schiuma di tutti i paesi tutti inginucchiati e che recitavano se cattolici il magnificat o il miserere se protestanti leggevano un capitolo della Bibbia oltre a ciò erano di una fedeltà scrupolosa gli uni verso gli altri ed una pazienza inalterabile pronti a sopportare le più dure privazioni mancando di donne esse ne avevano fatte venire dalle carceri da Saint-Petrier di Parigi se essi avevano avuto uno scopo degno della loro indomabile coraggio se la loro moralità fosse stata all'altezza della loro ammirabile disciplina essi avrebbero certo fondato un grande impero in America ciò che rese tutte le loro imprese inutili si fu che essi prodigavano in orige pazze quanto mostruose tutto quello che avevano conquistato con la rapina a poco a poco i legami che avevano tenuto amici questi uomini e avevano formato la loro forza essi infransero di quella immensa potente associazione non rimasero che alcuni branchi isolati di pirati a cui diedero la caccia tutte le potenze di Europa il loro nome però sopravvive e ricorda ancora una delle più incredibili incursioni dell'umanità sul dominio del meraviglioso www.redigio.it e la storia continua di un'unità di un'unità Grazie a tutti.